Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo sul dramma del viadotto della 14 perché la magistratura al termine degli esami autoptici condotti sia nella giornata dell'altro ieri che di ieri ha restituito le salme con un nulla osta alla famiglia Angrilli e si tratta delle salme di Marina Angrilli appunto moglie di Fausto Filippone e della figlia Ludovica dunque si potranno svolgere i funerali molto probabilmente venerdì anche se il luogo è ancora da stabilire. Per quanto riguarda invece il fronte delle indagini proseguono per cercare di capire che cosa abbia spinto Fausto Filippone a compiere questa vera e propria strage sterminando la sua famiglia moglie figlia e poi infine se stesso suicidandosi dal viadotto della 14. Emergono anche particolari importanti dalle testimonianze di coloro che hanno vissuto in prima persona quegli istanti tragici e tra questi anche il medico che ha soccorso Marina Angrilli subito dopo la caduta dal balcone nella palazzina di Chietiscalo. Allora andiamo a vedere insieme il servizio realizzato da Paolo Renzetti. Era supine con il volto verso l'alto immobile appena cominciato a toccare per vedere il polso ha cominciato a muovere la testa e quindi ho visto che era ancora viva. Chiaramente dalla posizione del corpo la pozza di sangue mi sono reso conto che era caduta dall'alto e ho pensato subito ad allertare il 118 ma già mi avevano preceduto dei condomini. La scienza ha confermato quello che la logica aveva suggerito già domenica scorsa. Il volo di Marina Angrilli dal balcone dell'appartamento al secondo piano della palazzina di piazza Roccaraso non è stata una caduta accidentale e nemmeno un suicidio. A spingerla giù dal balcone è stato il marito Fausto Filippone. Le prime indiscrezioni trappelate sull'esito dell'autopsia sul corpo di Marina Angrilli eseguita all'obitorio di Chieti dal medico legale Cristiano Dovidio non lascerebbero spazio a dubbi. Traiettorie e tipo di lesioni indicano con sufficiente chiarezza che Marina Angrilli è stata spinta forse con l'ausilio di una scala trovata nell'appartamento di Filippone solitamente affittato agli studenti. C'erano dei condomini, c'era lei ma da queste parti c'era anche il marito della donna? Lei lo ha visto? Allora sono rimasto diversi minuti da solo. Dopo aver assicurato l'intervento del 118 ho notato una persona che girava qui intorno, intorno a me, non è che si è avvicinato subito al corpo, tant'è che io pensavo che fosse uno degli spettatori e gli ho chiesto se sapesse cosa era successo. E lui mi ha risposto che è caduta dal secondo piano. Una risposta così, io ho pensato subito ma... Ma era il marito della donna? Non lo sapevo, io non conoscevo. Ma adesso può dirlo, era il marito? Era il marito perché poi io ho chiesto ma conosce la signora? E lui mi ha risposto che è mia moglie. Quindi io comunque prestavo attenzione alla signora che si agitava sempre di più, cercava di alzarsi addirittura, cominciava a sanguinare vistosamente. Poi lui invece era distante, passeggiava nervosamente contro il muro qui nel recinto, farfugliava qualche cosa ma non è che urlava o si disperava. Poi sono arrivate le forze di polizia? No, poi ho fatto una cosa che ho notato subito molto strana. Mi ha chiamato lui e mi ha dettato un numero telefonico e mi ha detto vado a prendere mia figlia. A me la cosa è sembrata molto strana e gli ho detto tu resti qui finché non arriva il 118. Lui non ha risposto, è rimasto lì sempre muovendosi nervosamente. Poi è arrivato il 118, ne sono arrivate due di ambulanze insieme a una volante della polizia. Io a questo punto mi sono disinteressato a lui ma seguitava a vedere la signora e assistere i soccorsi. Lei è ovviamente un medico e si era reso subito conto che le condizioni della donna erano molto gravi. Sì, sicuramente c'era una frattura molto grave del cranio. Addirittura la signora a tratti urlava, però tra un urlo e l'altro era silenziosa, era ferma, immobile. Io la chiamavo perché poi al marito ho chiesto come si chiamava, mi ha detto il nome Marina e io chiamavo Marina per vedere se dava qualche segno, ma purtroppo lo sguardo era sempre fisso in un'unica direzione. Cosa poi è accaduto dopo i soccorsi alla donna e al vaglio degli inquirenti? Di fatto però nessuno ha impedito a Filippone di andare a prendere la figlia a casa dei nonni a Pescara, nemmeno la pattuglia della polizia che era arrivata assieme alla seconda ambulanza del 118 in piazza Roccaraso. Una circostanza che sta lasciando sgomento il fratello di Marina Grilli Francesco che a Lanza ha dichiarato faccio fatica a credere che questo possa essere sfuggito ad una pattuglia di polizia. Filippone quindi ha potuto completare indisturbato quello che sembra a tutti gli effetti un piano disegnato a tavolino per distruggere la sua famiglia e se stesso, arrivando sul viadotto Alento della 14 a Francavilla e lanciando nel vuoto Ludovica prima dell'epilogo suicida dopo sette ore di trattative con le forze dell'ordine. Resta un mistero la motivazione, potrebbero esserci motivi personali interni alla psiche di Fausto Filippone provato dalla morte della madre a cui era molto legato, oppure motivazioni legate al lavoro o ancora un movente passionale. C'è circa un 10% di persone che soffrono di patologie psichiatriche, cosiddette nascoste, che non riescono ad aprirsi con i medici di famiglia, con i familiari, non lo fanno vedere, sono quelli che magari sono un po' cupi, sempre preoccupate, oppure anche allegri, vuol dire che è un altro tipo di patologie, che poi improvvisamente per un qualche cosa commettono queste atrocità. Che cosa può essere accaduto in quei secondi anche alla bambina? Secondo lei si è resa conto di quello che stava per accadere? Perché molti si chiedono, probabilmente c'è stata o non c'è stata una reazione di questa bambina che poteva essere forse anche sotto shock. Certamente la bambina ha vissuto attimi di terrore notevole, perché fidarsi del padre e poi fare questa orribile fine, penso che non era sicuramente un gioco per lei, qualcosa deve aver capito. Intanto la magistratura ha concesso il nulla osta per i funerali di Marina Ingrilli e della figlia Ludovica. Probabilmente le sequie ci saranno venerdì in maniera separata rispetto a quelli di Filippone. Andiamo avanti con il nostro giornale, cambiamo decisamente argomento. Il Comitato Via della Regione Abruzzo ha deciso ieri che per il progetto di bonifica della discarica Tremonti a Bussi, elaborato dall'Aedison, non sono necessarie le procedure di via. Il Forum Abruzzese dell'Acqua e la Società Ornitologica Abruzzese ha qualche settimana dalla lettera dettagliata in cui avevano sollevato perplessità su una precedente interpretazione della Regione in merito alla necessità di passare dal Comitato Via, avevano chiesto di valutare il progetto nella sede opportuna, cioè il Comitato Regionale. Devo esprimere la soddisfazione delle due associazioni, ha dichiarato Augusto De Santis, che ieri è stato udito dalla Commissione del Comitato Via, che è arrivata dopo un approfondito e articolato dibattito, durato un paio d'ore. Lo stesso Servizio Rifiuti, che aveva scritto direttamente al Ministero, poi aveva chiesto l'intervento del Comitato Via, competente in materia, sottolineando la complessità e la rilevanza della questione. Ora la conferenza dei servizi presso il Ministero dell'Ambiente può continuare e chiudersi con l'approvazione del progetto, ha dichiarato ancora De Santis, auspichiamo che tutto si risolva prima dell'estate per poter avviare quanto prima i lavori di risanamento dell'area a 11 anni dal sequestro operato dalla forestale. E andiamo avanti con il giornale. Torna nuovamente a 6 la Giunta Regionale d'Abruzzo con l'ingresso ufficiale nell'esecutivo del consigliere regionale di Regione Facile Lorenzo Berardinetti. D'Alfonso così ha puntellato la maggioranza in vista del voto sulla mozione di sfiducia previsto in Consiglio regionale venerdì. Sentiamo Andrea Costantini. Partita chiusa per quanto riguarda il riassetto della Giunta Regionale dopo l'uscita dall'esecutivo di Donato Di Matteo e Andrea Gerosolimo in aperta polemica con il presidente Luciano D'Alfonso. Dopo Giorgio D'Ignazio, a cui è stata data la delega al turismo, arriva Lorenzo Berardinetti. Il sindaco di Sante Marie, consigliere regionale di Regione Facile, ottiene deleghe piuttosto pesanti come quella ai lavori pubblici. Il timing dell'ingresso in Giunta di Berardinetti potrebbe non essere casuale perché arriva proprio alla vigilia del voto previsto per venerdì sulla mozione di sfiducia presentata dai consiglieri di Forza Italia, Febbo e Sospiri e sostenuta dall'opposizione. E proprio in quest'ottica, dopo i mal di pancia dimostrati dal gruppo di MDP articolo 1, arriva anche la delega alla ricostruzione post-sisma per il sottosegretario dell'Aggiunta Mario Mazzocca, che quindi sovraintenderà all'ufficio speciale per la ricostruzione. Siamo di fronte ad un esecutivo agonizzante che si regge su numeri risicati con una maggioranza composta da consiglieri che pensano esclusivamente ai propri interessi di bottega, rimanendo incollati a quella sedia per qualche mese in più pur di incassare lo stipendio. Tuona dai banchi dell'opposizione il consigliere regionale Mauro Febbo, che attacca. Berardinetti fa parte dello stesso gruppo consigliare di Di Matteo, che oggi però è all'opposizione. Abbiamo consiglieri regionali di centro-sinistra senza spina dorsale e dignità, che gli abruzzesi non vedono l'ora di mandare via dalle istituzioni regionali nella ormai prossima tornata elettorale. Il clima in vista della seduta di venerdì del consiglio regionale si sta surriscaldando. Attualmente, salvo colpi di scena dell'ultima ora, la maggioranza può disporre di 16 voti contro i 15 della minoranza. Restiamo sempre alla politica, lasciamo quella regionale per occuparci delle amministrative. Si sono presentati alla cittadinanza di Loreto Aprutino i tre candidati alla carica di primo cittadino, tre liste civiche con tanti volti nuovi e giovani di grandi volontà. Sentiamo il servizio di Vestina News. Con la presentazione ufficiale dei tre candidati a sindaco, che si contenderanno la carica di primo cittadino nelle elezioni del prossimo 10 giugno, è cominciata ufficialmente la campagna elettorale nel comune di Loreto Aprutino. Tanti progetti elencati sui diversi programmi elettorali, dal recupero del centro storico alla sicurezza, dal sociale alla comunicazione, tutti comunque con lo stesso interesse, il bene di uno dei borghi più belli d'Abruzzo. Come detto, tre i candidati. Remo Giovanetti, professione avvocato, in corsa con la lista civica cittadini per Loreto. È una lista che nasce proprio dall'esperienza ultima del 2013 e quindi sul presupposto di un gruppo di cittadini che si è messo insieme per cercare di dare una risposta a quelle che sono le esigenze concrete della collettività. Come obiettivo quello di impegnarsi per dare alla cittadinanza delle risposte concrete su esigenze con le quali ci siamo confrontati quotidianamente. Agire insieme con un fine comune che è quello di amministrare nel migliore dei modi il comune e il nostro paese. Per la lista civica in comune la scelta di candidato è ricaduta su Antonio Delle Monache, detto Antonello, imprenditore, ex presidente del Loreto Calcio a 5. Ci siamo messi insieme sotto un'unica bandiera che era l'associazione denominata in comune che poi è diventata adesso una lista civica e che si prefigge come obiettivo andare al governo del paese in alternanza all'amministrazione uscente. Dal centro storico alla cultura, allo sport, al sociale, al rilancio delle attività produttive. Soprattutto con la base, mettiamo il dialogo, l'ascolto e la comunicazione sia con i cittadini ma anche con i paesi limitrofi e con il governo centrale e con la regione Abruzzo. Illizza anche il sindaco uscente Gabriele Starinieri, medico di famiglia, anch'esso con una lista civica, progresso e tradizione. Sicuramente è una prosecuzione di quello che è stato programmato. Dopo la politica e il bilancio che siamo riusciti a praticare in questi anni, l'oretto si potrà permettere di costruire, di programmare, di avere un futuro più rosio. Quindi la nuova squadra che andrà a governare avrà rispetto al passato già una linea tracciata per realizzare tutte le opere per cui abbiamo avuto i finanziamenti. In più pensare ad un rilancio economico e ci saranno delle politiche soprattutto riguardo dei giovani, tanto sport, tanta cultura e costruire il loro futuro e porre le radici per restare all'oretto a vivere per tutta la vita. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Teramo. Studenti e istituzioni si sono ritrovati questa mattina nell'aula magna dell'università per ricordare i giudici Borsellino e Falcone per il 26esimo anniversario della loro morte. La giornata della legalità è stata condotta da Flavio Insinna e tra gli ospiti anche Maurizio Romanelli, procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, il servizio di Tania Bonici Castelli. Gli uomini passano, le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Per il 26esimo anniversario delle stragi di Capaci di Via D'Amelio, nell'aula magna dell'università di Teramo si sono ritrovati studenti ed istituzioni per riflettere, per ricordare i giudici Borsellino e Falcone e gli uomini della scorta morti con loro, ma soprattutto per darsi da fare. Qual è il messaggio che oggi lei ha rivolto ai ragazzi di Teramo, ma poi a tutti i ragazzi d'Italia in fondo? Noi oggi partecipiamo a una giornata di ricordo, di commemorazione di ricordo, però la commemorazione di ricordo diventano lo strumento per rinnovare un impegno quotidiano, che è un impegno di tutte le persone che hanno dei ruoli istituzionali, come la magistratura e le forze dell'ordine, ma è un impegno anche per i ragazzi. Un messaggio importante perché la scuola è sul campo, la scuola fa tante cose, fa tanti progetti, ma presenta tante iniziative, ma la scuola vive la sua quotidianità, anche oggi qui nel convegno si è ribadito che l'idea della legalità permea l'attività di tutti noi e deve quindi essere esercitata, vissuta nel quotidiano. A condurre la giornata in ricordo di Borsellino e Falcone all'Università di Teramo è stato un commosso Flavio Insinna, che ha accettato di svolgere il ruolo di moderatore non per lavoro, ma per impegno sociale, impegno che da anni l'Ateneo Teramano dimostra concretamente con l'istituzione di una scuola di legalità che organizza giornate di studio e riflessione. È stata una volontà molto forte sia da parte del Rettore, ma devo dire degli organi accademici, quella di istituzionalizzare la formazione nella legalità. È chiaro che il nostro Ateneo con la facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, di scienze della comunicazione, ma devo dire anche le facoltà scientifiche ha dei momenti di formazione che riguardano la legalità e l'etica delle professioni. Però l'idea di raccogliere in un'esperienza nuova, proprio istituzionale, la formazione sulla legalità, ha fatto partire questa esperienza. Oggi si diceva che non c'è libertà senza legalità, ma noi vogliamo dire che non c'è legalità senza libertà, nel senso che quello che noi dobbiamo formare e costruire è il desiderio, la voglia, la motivazione libera, consapevole di voler essere nella legalità. La legalità non può essere subire la norma, subire la legge o sentirsi in qualche modo irretiti da una normativa che ci impedisce di fare ciò che non vorremmo, ma deve essere questa adesione da parte dei giovani, ma di tutti noi, a voler liberamente costruire una società che sia giusta e che quindi sia rispettosa di ogni diritto e di ogni riconoscimento dell'uomo. La Ruzzo Reti comunica che a causa di lavori di tinteggiatura della segnaletica orizzontale all'interno delle gallerie autostradali a 24, che Strada dei Parchi ha comunicato effettuerà dalle ore 22 di oggi fino alle ore 6 di domani mattina, a scopo precauzionale chiuderà la sorgente traforo, pertanto domani potranno verificarsi diminuzioni di portata e pressione nei comuni d'Isola del Gran Sasso, Tossicia, Colle d'Ara, Montori al Vomano, Torricella Sicura, Teramo, Campli, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Canzano, Castellalto, Bellante e Sant'Omero. Dopo il consiglio comunale di inizio maggio in cui è stato sancito il passaggio della richiesta di uscire dai confini del Parco Nazionale d'Abruzzo, il comune di Villa Vallelonga ha affidato la gestione della questione ad un legale. Il presidente dell'ente parco Antonio Carrara parla di un provvedimento politico che non ha effetti concreti a livello giuridico. Sentiamo il servizio della redazione di Info Media News. Continua a camminare Villa Vallelonga e ad allontanarsi dai confini del parco. Ai primi di maggio si è svolta la seduta del consiglio comunale che prevedeva tra i punti all'ordine del giorno la proposta avanzata da un comitato spontaneo di cittadini di presentare formale richiesta di uscita dal territorio protetto dell'ente parco, punto andato ai voti e passato in consiglio e questione affidata alla competenza di un legale. Il presidente del Parco Nazionale però, da parte sua, parla di una presa di posizione politica e non giuridica scaturita soprattutto da divergenze di opinioni e di posizioni in merito a diverse possibilità di valorizzazione del territorio di Villa Vallelonga e delle sue eccellenze ambientalistiche. Villa Vallelonga non è l'unica delibera in Italia di un comune che, come dire, quando c'è qualche problema, qualche difficoltà di rapporto con l'ente parco chiede di uscire dal parco. È chiaro che c'è un valore politico, di pressione politica, non c'è un valore giuridico. Io quando mi sono, come dire, apprestato a chiarire che non aveva un'efficacia immediata ma l'ho fatto essenzialmente per i cittadini per evitare che si creasse l'equivo e qualcuno pensassi che il giorno dopo della delibera, come dire, là dove c'era il parco non c'era più. Chiaro che così non è. Il parco continua a esserci come prima. La decisione del Consiglio Comunale di Villa Vallelonga è una presa di posizione politica allo stato attuale. C'è un confronto, come voi sapete, ovviamente su qualche cosa non c'è una perfetta identità di veduta tra il parco e il comune. Secondo me il comune ha ingigandito anche la distanza di queste visioni perché io credo che una soluzione si possa trovare tranquillamente. Adesso invece apriamo la pagina dello sport e iniziamo dal calcio di Serie B. Quella che si è appena chiusa resta una stagione deludente per il Pescara. Una squadra costata tanto ma che ha reso poco fino a sfiorare addirittura la retrocessione acciuffata all'ultima giornata nella partita di Venezia. Per questo sono pochi i giocatori destinati a restare in rival adriatico. Il mercato porterà ad una rivoluzione dell'organico con cui dovrà fare i conti anche il tecnico Bepi Pillon qualora venga confermato sulla panchina del Delfino. Sentiamo il servizio. Quello che si affacerà alla prossima stagione di Serie B sarà un Pescara profondamente rinnovato. Tanti giocatori che tra scadenza di contratto, fine prestito o perché hanno mercato non reindosseranno la divisa bianca-azzurra. Che ci possa essere una sorta di rivoluzione è anche auspicabile dopo una stagione così deludente quale quella appena andata agli archivi. Un dato interessante e per nulla ragguardevole arriva dallo studio del portale cittadellaspezia.com dal quale si evince come il Delfino sia l'ultima squadra nel rapporto tra punti conquistati e monte stipendi. Ogni punto è costato 249 mila euro. Nessuno ha fatto peggio. Le squadre costate di più sono le retrocesse ma questo è normale perché quando si scende le società si portano dietro molti dei contratti sottoscritti in Serie A. Proprio per attutire questo fardello che è stato predisposto il cosiddetto paracadute. La speciale classifica vede primeggiare nettamente il Cittadella, 45 mila euro appunto, seguito dal Perugia, quasi 90 mila euro. Pescara e Palermo sono le uniche due ad essere sopra i 10 milioni come Montengaggi, Lempoli appena sotto. Se non altro i Toscani, comunque sesti nella speciale graduatoria, hanno straminto il campionato. Il Palermo si giocherà i playoff dopo essere rimasto in corsa fino all'ultimo per il secondo posto. Il Pescara rischiato invece la retrocessione. E allora via in tanti, in particolare i giocatori in scadenza di contratto, i portieri Baiocco e Savelloni e poi Mazzotta, Coda, Bovo, Campagnaro e poi per fine prestito Fiamozzi, Culibali, Carraro, Palazzi, Baez, Iamga, Falco, Capone e Cappelluzzo. Da verificare altre situazioni? Gaston Brugman e Stefano Pettinari sono i due uomini mercato. Di fronte ad un'offerta economica congura lasceranno il Pescara. Fornasier, Proietti e Bunino sono sotto contratto ma potrebbero essere fuori dal progetto tecnico futuro e sono in bilico. Il Pescara vorrebbe tenere Valzania e Macin ma il primo vorrebbe giocarsi delle chance all'Atalanta e comunque si dovrà trattare col club aerobico per una sua permanenza. Per Macin c'è un'opzione già fissata a un milione e mezzo di euro che potrebbe essere un ostacolo a meno di una rimodulazione col club che ne detiene il cartellino, la Roma. Le dinamiche di mercato sono imprevedibili ma al momento possono restare Fiorillo, Crescenzi, Balzano, Gravion, Perrotta e Elisalde tutti sotto contratto. E Mancuso che è della Juventus ma resterà in prestito un'altra stagione. Ci sono poi da considerare tra i giocatori che possono rientrare dai prestiti, Ahmad Benali e Francesco Zampano. Il Crotone appena retrocesso potrebbe essere indotto a non esercitare l'opzione per il centrocampista anglo-libico che peraltro tornerà in campo solo il prossimo autunno. Da verificare anche se l'Udinese darà seguito alla sua di opzione per Zampano, anche se l'esonero di Massimo Oddo potrebbe incidere sulla decisione del club della famiglia Pozzo. Pur confidando nella permanenza del nucleo centrale della squadra, il tecnico Bepi Piloni, in caso di probabile conferma, dovrà far fronte all'idea di una imminente rivoluzione dell'organico. Adesso andiamo in casa del Teramo, nella corsa alla panchina oltre al favorito Zichella e a Pierluigi Yervese spunta anche un terzo nome per il momento top secret. Intanto si comincia a ragionare anche sulle linee programmatiche del mercato estivo. Sentiamo Jacopo Forcella. Yervese e Zichella, ma spunta un terzo incomodo, perché quello che si prepara al Teramo potrebbe assomigliare ad un vero e proprio casting per la scelta del prossimo allenatore. Contatti per il momento non avviati, se non proprio con Zichella. Il resto sono idee e suggestioni che comunque consentono di ragionare a più ampio spettro. Cosa c'è di certo? L'unica cosa sarà l'incontro tra Zichella e il diavolo tra qualche giorno per decidere se continuare insieme oppure no. Il tecnico vorrebbe dimostrare di valere la panchina bianco-rossa, il Teramo ha ancora qualche resistenza e prima di decidere vorrebbe battere anche altre piste, perché altrimenti la conferma sarebbe stata cosa fatta da tempo dopo l'ultima giornata di campionato ad esempio. L'identikit dell'eventuale terzo della lista è assolutamente top secret, per il momento dal club bianco-rosso non filtra nulla, ma un profilo che per ora non è ancora uscito c'è e come se c'è. Campitelli sta variando le ipotesi societarie, ma comunque continua a tenere monitorata la situazione legata al futuro tecnico con cui stipulerà un accordo annuale. Come ammesso dallo stesso patrano bianco-rosso qualche giorno fa, stoppa i contratti pluriennali. Le casse del diavolo hanno bisogno di respiro e legarsi troppo è un problema. Peraltro l'organico consta già di otto elementi di proprietà. Speranza non partirà considerando i quasi 33 anni e le altre due stagioni nelle quali sarà legato al club di Campitelli. Più probabile che sia Stefano Amadio a poter fare le valigie, ma anche in questo caso ci vuole una società che sia disposta ad allungare fino al 2020 un accordo col Teramo che scade nel 2019. Davanti Frattangelo e Bacio Terracino non si toccano, uno avrà più spazio nella prossima stagione, l'altro capo camioniere della squadra è stata una delle pochissime note liete nella stagione appena conclusa. Molta attenzione davanti a Luca Di Renzo, 28 anni, 20 gol nel girone A di Serie D con la Prosesto e vecchia conoscenza di Zichella. Qualora fosse confermato l'allenatore lo porterebbe in bianco rosso, anzi pare che ci siano già stati contatti con il giocatore che avrebbe dato disponibilità a calcare per la prima volta nella sua carriera i campi di una categoria professionistica. In porta tornerà Lewandowski dal Monopoli e scelte per l'altro estremo difensore dipenderanno dall'allenatore. Mondiali Master di Atletica all'Aquila nel 2022 è il sogno del presidente del comitato organizzatore Gianni Lolli che spinge le comune ad una decisione. Basta un piccolo investimento per far sì che l'Aquila possa candidarsi in maniera ufficiale portando atleti ed un indotto notevole nel capologo di regione. Vediamo il servizio. L'Aquila non può farsi sfuggire l'occasione di ospitare i mondiali di atletica leggera. Così Gianni Lolli, presidente del comitato organizzatore del 23esimo World Master Championship. Ormai si è alla fase finale della candidatura della città dell'Aquila per i mondiali Master di Atletica Leggera del 2022. Devo ringraziare enormemente il consigliere Petrucci, Pierpaolo Petrucci, che ha indetto una riunione urgente con tutte le autorità, compreso il comune, per discutere il da farsi durante questa visita che è estremamente importante per la città dell'Aquila e per il proseguire della decisione finale nella votazione che avverrà a settembre. Con grande difficoltà devo dire, sto portando avanti questo discorso, avrei avuto piacere molto di più di una partecipazione più vive da parte del comune che nella prima fase il sindaco Biondi ha dato la sua disponibilità ma credo che oppresso anche dalle altre problematiche che segue la città non ha potuto mai partecipare in modo diretto alle altre riunioni. La posizione del sindaco sarà focale per Gianni Lolli, molte sono state le difficoltà, dovrà garantire il proprio interesse con i relativi impegni che saranno discussi nelle riunioni oppure costringerà, ha detto Gianni Lolli, ad uno spostamento in un'altra città abruzzese per non perdere un'occasione molto importante che porterebbe un ritorno economico di circa 20 milioni di euro all'economia cittadina. Dovete pensare che la partecipazione di circa 9.000 atleti ad un campionato del mondo, con indotto anche di altre persone che vengono familiari o amici per seguire le gare, per cui basta un po' di intelligenza e un po' di capacità a fare il calcolo, diciamo anche a 70 euro al giorno ognuna di queste persone spendono, è facile sapere quanti soldi vengono per la città. Grazie a tutti. Grazie a tutti.